arcadio come sei successo? insomma intanto mi mettiamo arcadio go qui al telefono quelli della youtube e mi parla qua del copyright del video che sborro ma ti capisci? vai ma allora parli che chi allora? eh? dammi qua sì buongiorno dottore puoi spiegarmi a capire bene questa roba qua? va bene aspetta che mi sento ad olivood a violare il copyright mi capisci? a violare il copyright? ma cosa cazzo me ne puoi inquietare a me? no ciò ma c'è una roba seria ora qua che te leso questo video non è più disponibile a causa di un reclamo di violazione del copyright da parte di 20 century fox film corporation mi sa che vi aga appena messi in cuo? ascoltami vecchio ad olivood films non ha mai capo un franco da ste robe anzi che facciamo pubblicità a questi buffoni e io dovrei ringraziarne! tu si savi cosa che vi dico che doppiamo anche via col vento e vediamo se questa è in mia cavaria! ma si è fuori a testa! ma mi pare parti impossibili! ciao no! e cosa che disemmo qui di youtube? chi va a cagare? ciao no!